È stato costruttivo, come diceva Carla, positivo anche per me perché mi sta aiutando, mi ha aiutato, mi aiuterà, sono certa. Semplice, perché comunque la chiarezza sicuramente è fondamentale. L'interazione e il coinvolgimento tra i partecipanti mi è piaciuto molto. Sono qua da poco, quindi conosco poco, ma mi è piaciuto interagire, ascoltare, soprattutto loro. Lo sviluppo del potenziale sicuramente c'è da fare, ma riusciremo a far tanto. Sono di questa idea. Voto di questo corso 8,5. Un incontro costruttivo, molto chiaro, limpido, su tutte le facettature possibili al quale abbiamo partecipato tutti. Sicuramente usciamo da questo incontro consapevoli che si può fare ancora tanto e quindi il potenziale ancora ce n'è. Forse ce la facciamo. No, noi ce la faremo. Voto 10. Molto intuitivo, molto chiaro. I partecipanti, i miei colleghi, sono stati propositivi sullo sviluppo del potenziale e effettivamente ci sono alcune attività che quotidianamente si possono mettere in atto e poi vi dirò se i risultati verranno ottenuti, ma credo in particolare. Comunque, fondamentalmente esco da questo corso sempre più sicuro che bisogna lavorare per primo su noi stessi. Il reggimento dei partecipanti è stato, secondo me, una parte molto importante di questo lavoro perché abbiamo fatto gruppo e stiamo facendo gruppo con questi percorsi e non è solo una questione teorica, ma sta diventando proprio pratica. Ci stiamo aprendo di più. Questo percorso ci ha fatto capire che stiamo facendo adesso perché possiamo dare dell'altro e magari con le nostre paure, con i nostri tipori ci bloccano. Invece noi possiamo fare di più per avere solo un piacere nostro personale. Voto 10. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.